un saluto agli amici e le amiche del canale cina deals che ci ospita in particolare all'amico pasqui iscrivetevi anche al canale youtube revotech dove troverete le recensioni sugli smartphone a mio parere migliori di tutto il panorama youtube le più oneste sicuramente il box di oggi è un box android io attualmente sono collegato a android auto in modalità wireless sfruttando il box android che ha questa funzionalità e andrei adesso a vedere il box che oltre ad android auto auto android auto wireless fa molte altre cose eccolo qua vedete questo è il box questo è il suo amico a wireless che mi accompagna sempre in auto il box ha questa scritta che non è stampata ma è proprio luminosa di notte lo vedrete è una figata assoluta vederla vederla di notte è molto solido è ben costruito ha una porta hdma in uscita una per la sim e una per l'espansione della memoria non ci sono altre porte ha il gps integrato processore snapdragon 4 gigabyte di ram 64 gigabyte di memoria interna siamo al top a livello hardware per box non troverete difficilmente troverete qualcosa di meglio è molto potente visto questo torniamo a noi la macchina lo riconosce come se io avessi collegato un iphone in realtà io ho un samsung con android 13 il box c'è in riproduzione vedete una spotify ma ci sono tutte le chiaramente tutte le le app di tutte le app di android auto che potete installare usciamo da android auto che funziona perfettamente in modetta wireless e andiamo alla schermata principale del box colleghiamolo al wifi vedete così approfittiamo anche per vedere un attimo le impostazioni accendiamo il wifi lo collego al wifi della mia macchina anzi si collega in automatico e siamo connessi ad internet quindi il box si può collegare ad internet o attraverso una rete wifi che nel mio caso è data dalla macchina o attraverso il vostro smartphone che fa hotspot o attraverso la sim dati che potete inserire qua ora quindi siamo connessi via bluetooth e siamo connessi ad internet il bluetooth serve qui per fare le telefonate per accedere alla rubrica del telefono per la lista delle ultime delle ultime chiamate adesso non per fare le telefonate io ho già provato però se la faccio mi salta mi salta il video non la registrazione video e chiaramente sentirete con gli autoparlanti dell'auto la chiamata e l'interlocutore vi sentirà perfettamente già che ci siamo vedete il gps del box che sta fixando tranquillamente una scorsa alle app presenti vedete c'è netflix io non ho l'account però per chi lo ha c'è netflix vedete nessun lag nessuna problematica play store quindi tutte le vostre app pagate non le potete scaricare o soffrire dal play store le app quelle moddate invece le le trovate esplorando il vostro box quindi vanno inserite nella sd del box e poi da qui le potrete installare youtube funziona senza problemi anche in movimento anzi no scusate questa youtube music io non uso ecco qua youtube corea portogallo vedete partito subito senza nessun problema allora questo box è simile anche a uno che ho già ho già recensito che troverete che adesso non ricordo non ricordo il il nome sono box che fanno quello che fa car saifi quello che fa a wireless cioè collegano il vostro smartphone ad android auto in modalità a wireless e per fare questo appunto bastano una spesa dagli 80 100 euro questo box che costa il doppio però fa il doppio delle cose potete appunto avere un vostro play store vedere netflix in movimento vedere youtube in movimento cosa che android auto non vi permette riprodurre musica e video lanciandola dal da qui quindi sono box che costano però sono box che fanno molte molte più cose a voi la scelta ci vediamo nel prossimo video e in descrizione vi metterò i link per l'acquisto c'è anche paypal ed eventualmente se mi sono dimenticato qualcosa ve lo scrivo in descrizione ciao a tutti